Carissimi, sono qui a dirvi, abbiamo terminato il nostro cammino di preparazione alla Pasqua e domani sera inizieremo il Triduo Santo con l'Eucarestia in cena domini, che significa appunto l'Eucarestia nella cena del Signore, nel ricordo del Giovedì Santo, nella memoria del Giovedì Santo, proprio domani sera alle ore 17 e sarà trasmesso sulle nostre TV locali. È un momento importante, quest'anno sentiamo come un momento di grande mancanza perché non riusciamo a farlo nelle nostre comunità, ma vorremmo farlo tutti insieme con l'ausilio dei mezzi di comunicazione moderna, in particolare la televisione. Vi attendo domani sera alle 17.